Bene, eccoci qui, siamo a Roma, Istituto Ambrosoli Superiore della Capitale, un istituto molto attivo, professionale e tecnico. Siamo con Fabio Cannatà, dirigente scolastico della Scuola di Roma. Buongiorno a tutti. All'Aran si sta discutendo perché la parte pubblica vuole introdurre nel contratto collettivo nazionale maggiore potere decisionale e sanzionatorio da parte dei dirigenti scolastici. Qual è il suo parere? L'esercizio del potere disciplinare va inquadrato negli strumenti di gestione del rapporto di lavoro di cui è chiaramente responsabile il dirigente, in questo caso il dirigente scolastico. Chiaro è che la finalizzazione e il miglioramento dell'azione amministrativa e quindi del servizio. Un momento di chiarezza andrebbe fatto. Allora, bisogna incidere sul contratto collettivo nazionale di lavoro e finalmente dare seguito alle buone intenzioni del codice disciplinare dei docenti all'interno del contratto. Perché in questo momento nel contratto collettivo nazionale di lavoro c'è il codice disciplinare del personale ATA, ma non quello dei docenti. che invece continuano ad essere, tra virgolette, disciplinati sotto l'aspetto disciplinare dal testo unico, dal decreto legislativo 297 del 94. Quindi parliamo di una fonte preautonomistica. È chiaro che un po' di lavoro di armonizzazione andrebbe fatta. È utile che il dirigente scolastico abbia questo potere? Sempre, ripeto, ai fini della qualità del servizio. Se è utile bisogna darsi da fare. Questa è l'occasione. Il contratto è in discussione. C'è la negoziazione ancora, diciamo così, in corso per quanto attiene agli aspetti cosiddetti normativi. Vediamo se riusciranno a fare un buon lavoro. Per noi, noi siamo chiaramente a disposizione. Se avremo questa prerogativa, la utilizzeremo, ripeto, sempre nell'ottica del miglioramento del servizio. Un potere che però già esiste in maniera più forte nei confronti del personale ATA. Invece, verso i docenti, diciamo voi, dovete per le sanzioni più gravi rivolgervi all'ufficio scolastico. Sì, in questo momento, questo devo dire soprattutto all'esito di una copiosa giurisprudenza, negli ultimi anni in particolare, e i dirigenti scolastici possono irrogare la sanzione dell'avvertimento scritto e della censura al personale docente e non quelle di carattere, invece, le sanzioni di carattere sospensivo. Mentre invece, personale ATA, è prevista la sanzione più grave, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. Non sta a me sottolineare la differenza di trattamento all'interno del personale scolastico. Si potrà dire, eh, ma i docenti godono di tutele particolari la libertà di insegnamento. Secondo me c'entra poco, c'entra poco perché la libertà di insegnamento è evidentemente tutelata dalla Costituzione nell'interesse non solo dei docenti ma soprattutto degli studenti, perché quella è una tutela per lo studente, il fatto che ci sia la libertà di insegnamento. Quindi il docente goda giustamente di un ambito ampio di discrezione, ma non c'entra con il disciplinario. Il disciplinario è un'altra cosa e, ripeto, trova senso nel miglioramento della qualità dei servizi che noi diamo ai nostri studenti, che sono la nostra ragione di esistere. Certo, Preside. Anche i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti forse necessiterebbero di qualche modifica. Non l'ANP, ma altri sindacati hanno obiettato un eccesso di aperture di procedimenti nei confronti dei dirigenti. Qual è il suo pensiero? Diciamo che si rileva una differenziazione territoriale. Ci sono alcune regioni, quindi alcuni uffici scolastici regionali, che sono più inclini a utilizzare questo strumento, altri territori in cui invece ancora il disciplinare non è particolarmente coltivato. Quello che ci sta a cuore è che queste procedure avvengono con la trasparenza e il coinvolgimento, la partecipazione dell'incolpato più ampia possibile. Questo lo dico perché molto spesso i procedimenti disciplinari verso i dirigenti scolastici sono avviati all'esito di una visita ispettiva e non sempre l'incolpato a piena conoscenza degli esiti della visita stessa. Questo invece è un diritto fondamentale dell'incolpato appunto. Allora, torniamo ai docenti. Molti dirigenti scolastici, insomma, diciamolo chiaramente, vorrebbero la chiamata diretta, soprattutto per dare maggior correlazione, avere una maggiore possibilità di correlazione tra il tipo di insegnamento, il tipo di istituto scolastico e l'utenza appunto che ne beneficia. Qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è che dobbiamo domandarci e risponderci senza infingimenti, si diceva una volta. Funziona il sistema in questo momento? Il sistema per cui io ancora ho delle cattedre scoperte, un avvicendamento vorticoso di docenti a febbraio su alcune classi di concorso, secondo me non funziona. Scusi, l'interrompo perché questa è una notizia abbastanza importante. Ancora deve assegnare delle supplenze annuali? Diciamo che ormai il quadro è completo ma si è completato veramente da poco, veramente da poco. O funzionerebbe di più, mettiamoci d'accordo sul senso del funzionare, funzionare significa rispettare in pieno il diritto dello studente di avere un insegnante, che mi sembra un diritto minimo all'interno della scuola. funzionerebbe di più dare alle scuole una capacità assunzionale da vedere con attenzione, ovviamente, perché nessuno si vuole sostituire al concorso nazionale, va da sé. Però le supplenze annuali che ci fanno tanto penare, perché adesso ce la prendiamo con gli algoritmi, con queste entità impersonali, ma in realtà sono scelte e la scelta che è stata fatta negli ultimi anni, negli ultimi decenni oserei dire, alla prova dei fatti si sta rivelando efficace? Secondo me no. In questi giorni si parla di assunzioni direttamente da GPS, però forse servirebbe anche una garanzia di percorso formativo veramente, veramente importante. Lo dicevamo prima, il reclutamento deve essere revisionato, deve essere revisionato sulla base di una mappatura dei bisogni. Cioè, che cosa è importante che non solo sappia, ma sappia fare un insegnante oggi? Lo dicevo prima, l'aspetto relazionale è centrale. È fondamentale. Presidente, siamo in conclusione. Capitolo stipendi, stipendi dei dirigenti. Lei, dal suo punto di vista, percepisce uno stipendio giusto? Allora, intanto, prima di domandarmi se è giusto, vorrei chiedermi se è certo, se è stabile. Noi dirigenti scolastici non abbiamo certezza stipendiale, perché alcune voci stipendiali sono determinate da contratti integrativi regionali che sono in regime di ultraattività. Significa sostanzialmente che sono stati firmati qualche anno fa e quindi stanno producendo effetti che dovranno essere poi confermati dai contratti successivi. E noi questo ogni anno non sappiamo se avverrà, il che significa che c'è sempre il rischio di dover restituire quanto abbiamo percepito. Diciamo due parole anche sull'aggettivo giusto. No, secondo me non è giusto. Noi siamo i dirigenti peggio pagati dell'area istruzione e ricerca. Noi siamo in un'area contrattuale insieme ai dirigenti degli enti di ricerca e il dirigente dell'ente di ricerca meno pagato è molto più retribuito di un dirigente scolastico a fronte di responsabilità che, nel caso dei dirigenti scolastici, se non sono superiori a quelli degli altri dirigenti degli altri enti, sono quantomeno equivalenti. Noi pensiamo con un po' di forze e presunzione che sono superiori perché la complessità di gestione di un'istituzione scolastica solo per l'aspetto delle relazioni con le varie figure che gravitano intorno alla scuola è di gran lunga più complessa di un ufficio dirigenziale che non ha questa esposizione diretta a quella che dovremmo definire utenza. Per noi sono gli studenti, le famiglie, i fornitori, eccetera, eccetera. C'è tanto da fare. E ci aspettiamo l'atto di indirizzo da parte del Ministero per l'avvio della contrattazione collettiva 19-21 che in questo momento nella nostra area contrattuale ancora è ferma perché manca l'atto di indirizzo. Stiamo parlando del contratto 2019-2021. Contratto che è stato siglato, sottoscritto da pochi mesi a dicembre 2022 per i docenti invece per i dirigenti scolastici ancora in alto mare. Non è proprio stato ancora avviato il tavolo negoziale. E questo secondo me è un segno di scarsa attenzione alla rilevanza che questa categoria professionale secondo me di fatto ha nell'ambito della nostra amministrazione, della pubblica amministrazione e che non tutti, temo di doverlo dire, riconoscono con i fatti perché con le parole viene riconosciuta, ma con i fatti no. Bene, un'ultima domanda. Preside, si è mai pentito di avere fatto il concorso a dirigente e di avere lasciato la cattedra? Onestamente no, ma non perché non mi piacesse insegnare perché il passaggio a dirigente l'ho vissuto e continuo a viverlo come un passaggio che mi consente di utilizzare altre leve per arrivare allo stesso obiettivo che cercavo di perseguire un po' da docente che è quello del pieno rispetto, del diritto allo studio dei nostri studenti. Onestamente no, non mi sono mai pentito. Bene, grazie al Preside Fabio Cannatà, capo d'istituto della Scuola Superiore Ambrosoli di Roma. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.